bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di cure 93 questa volta farò vedere ancora state of the kai però senza la mia faccina messa in quell'angolino a destra perché ovviamente anche se è una piccola icona anche se la faccio più piccola è sempre fastidiosa magari voi volete vedere bene lo schermo quindi questa volta registrarò solo la mia voce e vediamo un pochettino andiamo avanti io non ho continuato dall'ultima puntata ve lo voglio far vedere continua andiamo avanti e vediamo cosa possiamo trovare questa volta perché io mi ero fermata mi sa da aver preso quella donna dal prima che la spazio di zombie eccoci qui di nuovo allora l'obiettivo sta un po' laggando perché deve caricare un po' tutto vedete che deve caricare non capisco perché fa così ma vabbè allora dobbiamo andare verso quella freccetta a destra vediamo un pochettino no 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 so much for the new cross eccoci questo punto al micro il conto del interrotto il piccolo credo libero cari pari finché qualcuno si prende il suo vero carci forse non devo anche ma ci possiamo vivere a piedi ok nemo piedi quindi se non possiamo passare di qui io vi metto questa partita la felicità ragazza perché altrimenti ci mettiamo troppo e di passare per il fiume abbiamo salire qui sopra dai salita veloci stronzi non guardateli andiamo no no guacquo guacquo vabbè bello 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 no siamo arrivati all'altra parte del ponta adesso vediamo un pochino stanno accumulando gli zombie dietro di me c'è una macchina questo schifo che falla è troppi zombie andiamo avanti oh si può prendere la macchina salita dai 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 oh vu 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 mamma no queste più belle le macchine ok vediamo sta macchina ragazzi è più sembra una Volkswagen Passat dai grande andiamo mamma w w dai dai corriamo no no ho perduto la sala più larga ovviamente però dai si può fare per me per cui da questa cosa è uno schifo ho detto c'è che l'ha c'era proviamo a vedere qui da una macchina no vai rientrata ragazzi bravissime che sembra GTA ragazzi come sono entrati la macchina si muove loro continuano ad entrare quando andrò verso quella zona quindi proverò tagliamo ragazzi dai tagliamo nelle lastre uuu no che schifo dai dai Dai, vai bene, macchina Oh, sono state una persona, mi denunciano Che schifo come si muove la macchina, mamma mia, ragazzi, ve lo giuro Uno schifo Ai, gira Che palle Dai, ma gira Dai, non mi fa vedere neanche il frontale Un po' rovinata, raga Non è qua? Un burrone, no Cazzo, no E gli zombie che vengono a rompere i coglioni, giustamente Una folla, ragazzi, una folla Non posso farlo adesso Allora, abbiamo di sotto la macchina, dietro ci sono ancora zombie che rompono le palle Quindi corriamo un pochino Mamma mia, che velocista, ragazzi La macchina esplosa Gli zombie spawnano davanti a me Sono un bel po' raffreddato, visto che è sempre mattina presto Eeeh, dai Senza Ma che cazzo si mette lo zaino, ragazzi? Io non me lo ricordo più You want to confess that we kill the phone, no, questa è una cazzo Dai! No, non ci croce, si blocca anche sul tronco Mi sa ragazzi che abbiamo sbagliato, questa volta ci metterò veramente tanto No, forse no, forse no ragazzi, forse no Cos'è, cos'è quel punto? Cos'è quel punto? D'ah Qual è il tasto D? Non c'è neanche Vabbè, ho fatto bene Oh, una macchina, si cazzo, raga Una macchina Così ci veloci, diamo il viaggio Minza, che palle Veloci, salite! Dove siete? Dai, dove siete? Ovviamente gli zombie si avvicinano nel frattempo Ah, eccolo Dai, andiamo Salite sulla macchina Ah, lui sale sul cascione Grande zio, grande Tu sei alternativo Uh, zombie Andiamo Dai Bellissimo Andiamo Uh, corriamo ragazzi in velocità No, non mi dire ragazzi Questa è la copia di The Walking Dead Adesso c'è la campagna di quel vecchio Non ci credo Faremoci qui Vediamo un pochettino Cosa abbiamo fatto Che strano Guardate un po' Filmato Un altro filmato Dai 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 Mi cazzo Mi cazzo Mi cazzo Mi cazzo Mi cazzo Mi cazzo Siamo di potenza Il cancello Ragazzi Mi cazzo 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 Quindi come potete vedere Si può guidare la macchina Eh, fate obiettivi Gli obiettivi ve li regalano Perfetto Poi chiudere i cancelli di potenza Dai, questo è mezzomorto ragazzi Non l'avamo anche visto Mi schiro Sembra una merdina Guardate come cazzo Cammino E' tornare a dimissione Eh, zio, cosa devo fare? Dai, dò se vi è stati parincoglionita Ah, oh Sicuramente vuole portarmi a letto Diamo avanti Mi cazzo Mi cazzo Mi cazzo Mi cazzo La radio coordinare tutto il che? Andiamo Bello Bello cos'ha questa cosa? Ma un palco Per fare conferenze giusto di zombie Ovviamente si accalcono per venire Ok Non è un ufficiale Vabbè, possiamo fare un miracolo Con un zuppo in scatola E con penna di magliano Se la radio è normale Tutto il zuppo rimane qui Nessuno la deve aprire Ok, zio Il sugo ci si viene Questa roba La nostra spese Non è che la stanchezza Va bene Dai, dai, muoviamoci Ma mio padre è un carpenter E gli dice che potremmo Stare un dormo o qualcosa Per ottenere più spesa Ma che cazzo Se una ragazza è una vecchia C'è capelli in mezzi grigiasti C'è la faccia da ragazzina Ma Dov'è quello che vi preoccupi La febbre potrebbe indicare un'infezione Eh sì Dov'è quello che vi preoccupi Se una ragazza è una vecchia di freddo Un interno di un'infezione Inche si dovrà fare un'infezione Dov'è quello che vi preoccupi Sono invece di fare un'infezione Dov'è quello che vi preoccupi non so venire a cadere in un'occhietta ma se non ridiamo degli antibiotici probabilmente non ce la farà se avessi quel punto potrei probabilmente scoprire di lui una pallota se c'è vero non se ne accorgeva nemmeno una soluzione migliore è strano, zombie, tottice ma si che è un cane rabbiote mi dice niente puoi amare capito? ok va bene va bene quindi è così eh, piacere riconoscere per niente che ti spari in faccia che ti panno parci in culo di nuovo ti farei sto giro mi spiacciono le cose se non stanno così vabbè vabbè sì, ok, certo se puoi trovare un posto per ottenere più medicina faccio sicuramente che il tuo amico abbia un posto per ottenere big dick bella maglietta, bell'incitamento ah, cambi questa rimane la migliore ragazzi big dick big dick che cazzo amica zia che cazzo di magnetet ti metti ovviamente io in ogni punto dove cazzo devo andare devo andare a cazzo di torre dai chiudi coperiamo va bene, allora io ragazzi fermo qui il video gameplay perché veramente se no ci allunghiamo ci dilunghiamo troppo diventa noioso da Cure93 è tutto ci vediamo al prossimo ciao raga una cosa importantissima di questo gioco che non c'è la modalità cop bella ciao a tutti